Musica Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video Io sono Maullo941 e oggi iniziamo un nuovo torneo su FIFA 20 Che porteremo avanti ogni domenica ragazzoli Allora, per un discorso di praticità raga Avevamo detto che avremmo dovuto fare gli europei Ma purtroppo non lo posso organizzare Perché ci sono delle complicazioni che non si possono fare Quindi ragazzoli ci faremo i mondiali del 2022 Quindi, prima cosa da fare Andiamo a... le rose le ho già aggiornate Quindi, le... allora Prima cosa da fare ragazzoli Andiamo ad aggiornare le rose Ma se non sbaglio dovrei già averle aggiornate Scarica aggiornamenti Infatti le rose sono aggiornate Vediamo le rose della nostra nazionale italiana, signori miei Allora, la nostra nazionale prevede Donnarumma, Sirico e Meretti in porta Difesa con Chiellini, Bonucci, Ascerbi, Romagnoli Florenzi, Emerson, Birachi di Lorenzo Verratti, Giorginio, Bernardeschi, Politano Barella, Sensi, Zaniolo, Tonali E poi abbiamo Immobile, Insigne, Belotti e Chiesa Va bene ragazzoli Questa è la nostra formazione che secondo me va bene così Perché io, più o meno guardando su internet Forse l'unico da sostituire che sostituirei è Politano Ma sinceramente non so con chi sostituirlo Andiamo a organizzare il torneo, signori miei Andiamo a organizzare il torneo Ok, allora ragazzoli, mettiamo Gironi, eliminazione diretta Squadre 32 Purtroppo negli europei, vedete Negli europei le squadre sono 24 Ma 24 non me le fan mettere Me ne fan mettere 32 E non riesco a organizzare 30 Non ci sono nel gioco 32 squadre solo europee Quindi ci faremo i mondiali ragazzoli Con 32 squadre Seleziona automaticamente squadre Le facciamo selezionare lui Poi andiamo a vederle Nome del torneo Andiamo a costituire Ci mettiamo mondiali 2022 Se non sbaglio Andiamo proprio avanti Andiamo proprio avanti Cioè Siamo nel 2021 Impostazione avanzata E facciamo sì Allora Allora Qua mettiamo nazionali Gamma valore squadra Tutti Panchina 5 Seleziona coppa La coppa dei mondiali Mamma che so brutte C'è coppe Ma mettiamo questa Tipo champions Mamma che brutta Comunque Ci assomiglia per uno Forse questa è quella Ci assomiglia di più Raga Questa no Vabbè Prendiamo questa Prendiamo questa Anche se non ci assomiglia per niente Stato della finale Mettiamo San Siro Che dovrebbe esserci Signori miei Torni di finale 1 Squadra per giorni 4 Avanzamento squadre 2 Incontri Mettiamo 1 solo Partita E eliminazione di turno 1 Perfetto Ok Organizziamo le squadre Ok ragazzoli Abbiamo sistemato Più o meno le squadre Che dovevano partecipare Ai futuri mondiali Abbiamo messo Argentina Belgio Brasile Camero Cile Cina Colombia Costa d'Avorio Egitto Finlandia Francia Galles Germania Inghilterra Irlanda Islanda Italia Che è la nostra Sformazione Messico Norvegia Nuova Zelanda Olanda Peru Polonia Portogallo Repubblica Cega Slovenia Spagna Stati Uniti Sud Africa Svezia Svizzera Uruguay Raga Penso che dovremmo esserci Forse magari c'è qualche defezione Ma penso che dovremmo esserci Dovremmo andare bene così Dovremmo andare bene così Ok ragazzoli Lo salviamo come mondiale 2022 Che è quello che veramente fa Salviamolo E andiamo avanti Raga Vediamo cosa succede Vediamo cosa succede Ok signori miei Noi siamo capitate nel girone Con Cile Francia E Svizzera Signori miei Mi fai vedere tutti i vari gironi Allora Iniziamo dal primo Girone A Belgio Sud Africa Polonia E Islanda Se accettano scommesse Raga Se accettano scommesse Scrivetemi nei commenti Secondate quali sono le squadre Che passano il turno Girone B Inghilterra Peru Norvegia E Argentina Bello questo Bello questo Gruppo C Repubblica Cega Slovenia Spagna E Svezia Gruppo D Cile Francia Svizzera E Italia Mizzica Gruppo E Galles Colombia Costa d'Avorio E Portogallo Bello anche questo Bello Costa d'Avorio E Portogallo Una bella partita Deve essere Gruppo F Olandia Finlandia Cina Uruguay L'Olanda favorita Sicuramente Gruppo G Brasile Messico Camerone Germania Mamma mia Qua si ammazzano Raga Qua si ammazzano Terribile Terribile Gruppo H Stati Uniti Nuova Zelanda Egitto E Irlanda E qua l'Egitto C'ha Strada Libera Praticamente Abbiamo finito Questi sono i gironi Raga Questi sono i gironi Di questi mondiali Signori miei Allora Noi abbiamo una formazione Con Noi abbiamo una formazione Con Donnarumma in porta E ci sta Difesa con Florenzi sulla destra Bonucci Acerbi 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 No Dovrei averlo messo Chiellini Eccolo qua Chiellini Sinceramente preferisco Averci Chiellini In difesa Emerson Va bene Verratti Giorginio Barella Bernardeschi Insigne Immobile Immobile Ok Ti stiamo Biraghi Forse non era tanto Forse era meglio Vabbè Ci siamo portati a dire Biraghi Allora Ne serve Intanto un portiere Di ricambio Perfetto Belotti Ce lo portiamo Come attaccante Difensore Romagnoli Va bene Zaniola Centrocampo Va bene E Chiesa Come eventualmente Esterno Chiesa sa fare Entrambi i ruoli Chiesa sa fare Solamente L'esterno destro Ok Politano invece L'esterno sinistro Eh Effettivamente Non abbiamo Un'ottima Un'ottima rosa Raga Potevamo ragionarci Un attimino meglio Sulla rosa Vabbè Oramai è questa Oramai è questa Non ci Non ci preoccupiamo Oramai è questa Riusciremo a fare Il nostro bel percorso Nel mondiale E va bene Ok ragazzoli Io direi che Questa formazione Per affrontare la Francia Alla prima Alla prima del girone Possa andare Più che bene Vediamo un attimino Le impostazioni Raga Allora noi giochiamo In 5 minuti Esperto Esperto ragazzoli Giochiamo con esperto Sostituzione veloci Sì Pallone casuale Pallone Pallone Prendiamo questo No questo è da Champions Proprio Europa League Dai questo Questo che era Quello dei mondiali Della serie Di qualche anno fa Di qualche anno Dell'anno del 19 Il gioco normale Va bene Andiamo e giochiamo Raga Scendiamo in campo Alla prima partita Dai che questa Ce la giochiamo Alla prima partita Ce la giochiamo Ok ragazzoli Stiamo entrando in campo Prima partita Del mondiale 2022 Siamo andati molto avanti Ragazzoli Italia Francia Italia Francia Ecco le due squadre Che entra in campo Capitan Bonucci Capitan Bonucci Bella così Bella così Guardate Paolo Maldini Bella questa coreografia Attenzione Per ora le squadre Sono tutte quante a zero Ovviamente Per forza Stiamo iniziando Il nostro girone Quanto meno Perché gli altri Già l'avranno iniziato Il girone Vediamo velocemente Le formazioni Vediamo se me le fa vedere Le formazioni L'inno nazionale Ragazzi Silenzio Silenzio Italia Chiamo Sì Va bene Ottimo Bello così Bello così Siamo già in campo Siamo già in campo Pronti Pronti Bella così Non facciamo cretinate Mi raccomando Voglio una partita pulita E i tre punti Contro i francesi Io purtroppo I francesi Non li sopporto Non so voi Ma io i francesi Non li sopporto Certo però Se sbagliamo già Sti passaggi Va bene L'emozione Del mondiale Però non possiamo Sbagliare A ste cose Attenzione Bernardeschi 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 La cross Attenzione Stacco di testa Mamma mia Ci siamo andati vicini Ci siamo andati vicini Ci siamo andati vicini Bella l'apertura Bella l'apertura Per Bernardeschi Che la stoppa Bernardeschi Vede il buon movimento Bella La triangolazione Barella Barella Al limite dell'aria Entri nel rigore La cross Ma no Ma era mano Ma era mano Ma era mano Ma era mano cross Quanto un palazzo Occhio raga Occhio raga Occhio raga Occhio raga Non lo facciamo passare Occhio raga Occhio raga Ammunizione per Emerson Dai Aspettate Fermi tutti Ma io ho fatto un fallo Ma la palla era lontana Raga La palla era lontana Tu stai scherzando Ma dai Ma la palla era lontana A un chilometro Ma mannaggia Allora Non ci posso credere Non ci posso credere Aspetta No fai tu Bah Che errore di Griezmann Che errore di Griezmann Come ci godo 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 Così impari Così impari Tutto subito hanno fatto Meno male Rigore sbagliato per la Francia Raga Rigore sbagliato per la Francia Gol sbagliato Gol subito Come si vuol dire Dai che andiamo sulla fascia Vai Bernardeschi Vai Bernardeschi Vai Bernardo Vai piccolo Bernardo Vai piccolo Bernardo Non ti far fregare Piccolo Bernardo Dai 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 Giriamo la palla Giriamo la palla Giriamo la palla Giriamo la palla Dai 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 Guardalo 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 No porca miseria Ma porca miseria Ma porca miseria Astag ma porca miseria raga No 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 Dove sta andando questo Dove sta andando questo Sbragalo sbragalo Mamma mia No ha preso paro Porca miseria È bra Porca miseria Porca miseria Porca miseria Immobile sempre solo Immobile sempre solo Dobbiamo cambiare formazione Giocare così Con immobile solo soletto Non mi ci trovi Mamma mia che l'abbiamo sbragato Bello così violento Giorginio Si è abituato al calcio inglese Che si è preso? Il cartellino giallo Non l'avevo visto Griezmann si arrabbia Ma che te arrabbia hai sbagliato il rigore Ma vai a vendere il pane Le baguette Bella 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 Vai Bernardo Vai Bernardo Vai Bernardo Ma porca di quella paletta Ambriaca Ma dai 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 Siamo sul pezzo Bernardino 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 Ma porca Bernardino mio Bernardino mio Ma che errori mi fai Bernardino mio Calcio d'angolo Calcio d'angolo Dai dai Giochiamolo sempre vicino Come lo giochiamo col Venezia Che porta bene Porta bene Giocare lì Porta bene Giocare lì Parella Porta bene Una cippa Porta bene Bello momento Bello momento Ancora Bernardo Ancora Bernardo Che si propone tantissimo Mamma mia Me l'ha sbragato male Ma è fallo Ma me lo devi buttare fuori però Ma me lo devi buttare fuori Cioè mi ha rotto l'unico che mi corre Ma ha rotto l'unico che mi corre Dai Me lo devi buttare fuori Attenzione punizione Ancora lui Bernardeschi Bernardeschi Vediamo se ci riesco raga Io non ci riesco Io non ci riesco Quando sono al limite dell'aria Pensate quando sono A centrocampo praticamente Dai così Dai 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 Vediamo che cosa ne esce fuori Addirittura Cioè il partire ha avuto tutto il tempo Di prendersi un caffè al bar Di guardare la traiettoria del pallone Di spostarsi con calma E di pararla Bella cosa Va bene Fine del primo tempo raga Un po' così Fine del primo tempo Un po' così raga Le altre partite non ci interessano Noi dobbiamo pensare solamente al nostro Non facciamo sostituzioni per ora Non facciamo sostituzioni Riniziamo col secondo tempo E vediamo al solito Al massimo al sessantesimo Vediamo cosa possiamo inventarci Cosa possiamo inventarci Dove sta andando Questa Fermate Mbappé Fermate Mbappé Va bene Meno male che abbiamo comunque una difesa Che sta a difendere Meno male che abbiamo una difesa Che sta a difendere Bravo immobile Ma è fallo No mi si è rotto immobile raga Mi si è rotto immobile Ma porca Ma porca Ma Dio dico Ma guarda Se sta a toccare il braccio Ci manca la sola Mi si rompeva immobile Mi si No 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 Dove sta andando No no raga Non lo so Un tappeto rosso A questi francesi Ma porca miseria Francia in vantaggio signori miei Francia in vantaggio Con Griezmann Ma porca miseria Giustamente Aveva sbagliato il primo gol Ha sbagliato il rigore Ci ha segnato il secondo Va bene Va bene Allora facciamo uscire immobile raga Prima che mi si rompa del tutto Ok Fuori immobile raga Fuori immobile dentro Belotti Fuori immobile dentro Belotti Insigne partito Insigne partito signori miei Insigne partito Insigne partito Insigne partito Insigne partito Deve anche fermarsi E cercare un compagno Però insigne non posso Vai 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 No E va bene Dai 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 Siamo sul pezzo Siamo sul pezzo Però insigne 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 Vede il momento di Belotti Che rivede Emerson Emerson Bape lo stoppa Addirittura Ambape in difesa Complimenti Ambape Dai che ripartiamo Dai che ripartiamo Insigne 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 Se ne va Mamma mia che potenza Che insigne Mamma mia che potenza Che insigne Dai insigne Dai insigne Verratti La pareggia Lui Uno a uno Signori miei Gran bel gol Insigne Se ne va Siamo andato sulla sinistra Insigne Devastante Signori miei Insigne Devastante La pareggia Verratti Uno a uno Bella così Bella così Chi dobbiamo sostituire Bernardeschi per chiesa Va bene Facciamo la sostituzione Bernardeschi per chiesa Bella così Bella così No 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 Bello l'intervento Che stai No ma non è punizione Ma nella vita Ma non è fallo Ma nella vita Ma dove era sto fallo Ma non era fallo Mai nella vita Non mi fa vedere Nemmeno il replay Perché lo sanno pure loro Che è un fallo rubato È un fallo rubato Che cazzo No vabbè Ma Donnarumma Donnarumma è un po' pazzo Donnarumma è un po' pazzo Signori miei 2-1 Francia Il polpo Polba 2-1 della Francia Il polpo Polba Cioè guarda Donnarumma Sta a 8 metri Dal Bah Prossima partita Voglio Sirico Prossima partita Mezz'ora per pareggiarla E poi questi E poi questi Ci fanno il gol Del 2-1 Eh va bene Va bene Tutto da rifare per l'Italia Tutto da rifare per l'Italia Che sta risentendo Un attimino Dell'emozione Dell'esordio Signori miei Emozione dell'esordio No 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 Mamma mia Comunque ci hanno Un tridente devastante Questi raga Ci hanno un tridente Meno male che c'hanno anche la testa quadrata Ma hanno un tridente devastante Comunque Bappé Griezmann E prima Coman Fuori po' ba Fuori po' ba raga Ma noi ci crediamo Noi ci crediamo Chiellini 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 Verratti 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 Dove vai? Lorenzino Devi partì Devi partì Guarda guarda Verratti Guarda il momento di Verratti Bravo Verrattino mio Bravo Verrattino mio Fermati 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 Guardalo Guardalo 2-2 pareggio Pareggio Signori miei Belotti Il Gallo Il Gallo Belotti Che prende a calcio la banderina Il Gallo Belotti La pareggia lui 2-2 L'Italia non molla Signori miei L'Italia non molla Verratti per Zagnolo Va bene Va bene Verratti per Zagnolo Non so come ha segnato Che cazzo di gol ha fatto Non si è capito Da dove la prende Scusatemi Ma che cazzo ha fatto Se l'ha tirata sui piedi Va bene Lasciamo perdere L'importante è che abbiamo pareggiato L'importante è che abbiamo pareggiato All'ottantesimo E' uscito Verratti per Zagnolo Signori miei 3 minuti di recupero 3 minuti di recupero La Francia sta attaccando La Francia sta attaccando No 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 Ma vabbè dai Però se Donnarumma Non piglia manco queste E festeggia pure Ma che c'è festeggi Donnarumma Se non pigli manco queste Ma di che stiamo a parlare Donnarumma Donnarumma Gigio Mamma mia Che l'ho vista brutta Sta palla Si lamenta pure Ma chi sei Cosa vuoi Ma tornate da dove sei venuto Allora Giochiamola lì Anche se è molto rischiosa Giochiamola lì Per Grizzaman è comunque Pauroso raga Cioè prossima carriera Che ci facciamo Grizzaman la dobbiamo Comprare per forza Finita raga Prima partita All'esordio mondiale Tra Italia E Francia E Francia 2 a 2 Dai Un risultato che ci può stare Un risultato che ci può stare Sono andati in gol Verratti Se non sbaglio Per l'Italia E il Gallo Belotti E il Gallo Belotti Bella così ragazzoli Allora Torniamo nuovamente Vediamo che hanno fatto Le altre squadre del girone Invece Allora ragazzoli Nell'altra partita La Svizzera Ha battuto il Cile La Svizzera Ha battuto il Cile Signori miei Quindi praticamente Già dobbiamo andare A rincorre Però noi la prossima La giochiamo contro il Cile E quindi Già potrebbe essere Una buona sistemazione Allora ragazzoli Io per questo primo appuntamento Di questo mondiale 2022 Vi saluto qui Vi invito a lasciare Like Commenti E tutto quanto Fatemi sapere I vostri pronostici Per chi passerà il turno Praticamente nei vari gironi Detto questo ragazzoli Noi ci vedremo Con il prossimo video Di questa Di questa Carriera Diciamo domenica prossima Detto questo ragazzoli Un buona continuazione Ci vediamo Sempre qui sul canale Per un altro contenuto Bella raga Ciao